Il turismo a luglio diventa un problema non da poco a Ibla, anche quest'anno qualcuno dice forse più dello scorso, le presenze si sono ridotte in maniera drastica rispetto al mese precedente, è chiaro che non ci sono ancora dati a disposizione, ma in maniera empirica basta chiedere agli operatori commerciali della città antica sia subito la percezione che la vivacità di qualche settimana fa sia andata perduta, adesso magari così come accade sempre tutti gli anni ci sarà un recupero nel mese di agosto, ma l'andamento altanemante ovviamente non consente ai vari commercianti del posto di poter contare su una linearità di azione, che almeno durante il periodo estivo dovrebbe essere costante, quanto afferma il Comibleo, il comitato spontaneo di residenti della città antica, che intanto intende sfatare un tabù, quale? Non è che perché il nostro sia un comitato di residenti, chiariscono dall'organismo, non ci interessiamo delle sorti di chi fa affari nel nostro ambito territoriale, anzi alcuni operatori economici risiedono proprio a Ibla e quindi a interesse di tutti, anche nostro, fare in modo che le esigenze possano essere contemperate, seguendo il giusto equilibrio, per cui se a luglio le presenze dei visitatori sono scese in maniera drastica è chiaro che si tratta di un segnale che preoccupa, quindi visto che ormai sappiamo che a luglio la situazione a Ibla viene sempre a scemare, è evidente che già a partire dal prossimo anno, per questo mese bisognerà pensare a provvedimenti specifici che aiutino il comparto a recuperare terreno, e soprattutto a non perderlo rispetto al mese di giugno, quando comunque la situazione si risveglia. Non ci sono dubbi, la programmazione deve essere fatta per tempo, superando ogni criticità, solo così per il luglio 2025 possiamo sperare in una inversione di tendenza. Penultima provincia in Italia, ovviamente ultima in Sicilia, ma soprattutto una delle dieci realtà territoriali italiane con il segno meno nelle stime 2024, questo è il dato relativo a Ragusa consegnato da un apposito studio della CGA di Mestre sul valore aggiunto reale, ovvero il PIL adattato ai territori. Nonostante il dato positivo rispetto ai livelli pre-covid, con un aumento del 3,53%, appunto l'anno in corso meglio le stime a preoccupare per il dato Ibleo. Specie se si guarda ad esempio alla prima provincia siciliana, Palermo, che registra un incremento di 0,48%, contro appunto il calo Ibleo, con un meno 0,14%, secondo solo a Vibo Valencia, che registra una contrazione di meno 0,23%. Anche nel 2024, secondo lo studio della CGA, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, saranno le regioni che traineranno il PIL reale nazionale che, stando ai principali istituti di statistica, dovrebbe attestarsi attorno al più 0,7%, contro il più 0,1% della Germania, il più 0,7% della Francia e il più 2,1% della Spagna. Tornando ai dati di casa nostra, le previsioni di crescita elaborate dall'Ufficio Studi della CGA su dati Prometeia, ci dicono che in Lombardia la stima di crescita per l'anno in corso dovrebbe essere dello 0,95%, in Emilia Romagna dello 0,86% e in Veneto dello 0,80%. Anche per questa estate le contrade a Monte di Marina di Ragusa risultano abbandonate dall'amministrazione comunale, che è molto più interessata a quel che accade nel quartiere Rivierasco che nel resto della città. Lo denuncia il consigliere comunale del Partito Democratico Peppe Calabrese, che è anche segretario cittadino DEM, a nulla è servito istituire l'assessorata alle contrade, aggiunge Calabrese, dato che è senza portafoglio, non ha insomma il becco di un quattrino da investire nelle contrade. Il risultato, come al solito, è che si pensa ai servizi per Marina di Ragusa e ci si dimentica di chi vive nelle contrade, dimostrando che per questa amministrazione ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ai problemi relativi alla fornitura dell'acqua e le fognature si aggiunge anche la carenza di servizi di trasporto pubblico, continua Calabrese, perché se a Ragusa città c'è il nuovo servizio di autobus che collega i vari quartieri, a Marina di Ragusa è il servizio che fa da staffetta tra le località della costa, nelle contrade non ci arriva nessuno. I cittadini delle contrade sono costretti a muoversi in auto per raggiungere un quartiere che è già notevolmente congestionato dal traffico e dalla carenza di parcheggi. Insomma, al sesto anno di amministrazione Cassì, conclude l'esponente DEM, dobbiamo constatare che certe cose non cambiano, anzi la capacità di mantenere invariate le diseguaglianze tra alcune zone della città è sempre la stessa, con o senza l'assessorato alle contrade. Grazie al contributo dell'assessorato regionale del Dipartimento della Famiglia delle Politiche Sociali, anche ad Ispica sarà possibile avviare la progettazione del PEBA, Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il decreto di finanziamento mette a disposizione del Comune di Ispica la somma di 15.174,63 centesimi, tutta destinata alla progettazione del Piano. Desidero condividere il raggiuntimento di questo primo obiettivo, dicara l'assessore Massimo Di Benedetto con l'associazione Assod, che con grande spirito collaborativo ha aiutato nella fase di studio della problematica e nella predisposizione dell'istanza. Avere un progetto in mano, continua l'assessore Massimo Di Benedetto, ci permetterà di intercettare finanziamenti successivi mirati all'eliminazione di barriere architettoniche. Nel rifarcimento dei masciapiedi di Via Duca degli Abruzzi abbiamo già iniziato a prevedere gli appositi scivoli che eliminano le barriere. Conf Cooperative a livello siciliano sta ponendo con urgenza, insieme alle altre centrali cooperative e ai rappresentanti dei sindacati e dei lavoratori, l'urgenza di rivedere i prezzi dei servizi socioassistenziali erogati in Sicilia per conto di istituzioni regionali, antilocali e tristetti sociosanitari. Lo afferma il presidente territoriale Conf Cooperative Ragusa, Luca Campisi, il quale evidenzia che la questione è stata posta con urgenza nel momento in cui gli aumenti del costo del lavoro, già scattati a febbreo 2024, avranno un ulteriore banzo in avanti a ottobre 2024 e proseguiranno nel 2025 e 26. Considerata l'entità dei fondi oggi previsti, i comuni fanno già fatica a coprire l'attuale livello di spese e rischiano ad ogni passo il disequilibrio finanziario. Inoltre è stata condivisa la necessità, prosegue i campisi, di trovare soluzioni che possano rendere più sostenibile il sistema welfare siciliano, in considerazione dell'aumento esponenziale delle fragilità in tutte le comunità isolane, ma anche del fisiologico incremento dei costi relativi a tutti i fattori di produzione, a partire da quello del lavoro. Su questi temi a livello locale ci siamo già confrontati con i comuni, soprattutto con gli enti capofila dei distretti sociosanitari e con il libero consorzio. La Polizia di Stato nei servizi del controllo del territorio nella provincia di Ragusa, con la collaborazione sinergica dei comandi provincei dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, attraverso i dispositivi Interforce, continua ad esercitare l'attività di polizia al fine di rendere più sicura la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività. A tale attività di vigilanza e controllo si affianca e ne è conseguenza l'esercizio della potestà prevenzionale del questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza che adotta provvedimenti amministrativi di esclusiva prerogativa, al fine di contenere le condotte antigiuridiche di persone sospettate di essere abitualmente dedite ad attività delittuose. In tale contesto, nelle ultime settimane, il questore della provincia di Ragusa, dottor Vincenzo Trombatore, ha adottato otto misure di prevenzione personali, nella specie degli avvisi orali nei confronti di altrettante persone, per avere già commesso dei reati e per le loro frequentazioni con altri pregiudicati, che vengono per l'appunto avvisati che, se non cambieranno condotta, si procederà nei loro confronti con misure di prevenzione personali a carattere giurisdizionale maggiormente afflittive. Si tratta di otto persone residenti in vari comuni della provincia di Ragusa, segnalate alla divisione polizia anticrimine da uffici interni della questore da comandi territoriali dei carabinieri. Inoltre sono stati adottati due misure di prevenzione personale, nella specie degli ammonimenti per violenza domestica, nei confronti di altrettante persone, per le condotte vessatorie nei confronti della moglie di uno e dell'ex moglie dell'altro. Altresì sono state avanzate al Tribunale sezione misure di prevenzione di Catania, sette proposte di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di cui cinque nei confronti di indiziati dei delitti di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori, stalking, con l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico e due nei confronti di indiziati di delitti nell'ambito della criminalità comune. I carabinieri della stazione di Marina di Ragusa hanno dato esecuzione all'ordinanza applicativa di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Ragusa nei confronti di due tunisini, un 21enne e un 19enne, residenti entrambi a Santa Croce e Camerina ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato in concorso, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Il provvedimento scaturiva da una scrupolosa attività di indagine condotta dai militari di Marina che, grazie all'analisi dei filmati dei circuiti di videosorveglianza urbana e all'escursione di alcuni testimoni oculari, sono riusciti ad identificare gli odierni indagati, quali presunti autori di numerosi furti verificatesi nella frazione marittima di Ragusa, ricostruendo come gli stessi in più occasioni avessero rubato diverse biciclette monopattili elettrici che venivano ricettati ed utilizzati dagli stessi, nonché sottratto carte di credito utilizzate indebitamente per prevale contanti ed effettuare acquisti. Due tunisini venivano quindi tratti in arresto dai carabinieri e sottoposti in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.